E' arrivato come immaginabile un simpatico tapiro d'oro a Vira Carbone, è il primo tapiro della sua vita, dopo la gaffa che ci sarebbe stata in diretta tv a Buongiorno o Benessere su Rai 1, in pratica la bella Vira avrebbe detto Pompe, pompini, pompotte, non servono, parlando appunto dell'argomento appendicite con un esperto nel campo della medicina E' così, diciamo così che proprio la stessa Vira si sarebbe giustificata davanti al Buongiorno, Stoffelli avrebbe detto che non ho una direttica 8 Stavo cercando una parola più delicata di Cristere e quindi gli è uscita questa parola qui, forse ovviamente inopportuna, va bene? Comunque ha accettato di buon grado il tapiro che Stoffelli è andato a dare a Roma, credo, la capitale d'Italia E non ha avuto problemi ad accettarlo serenamente e tranquillamente parlando, va bene? Abbiamo un piacere molto utilizzare i pecceteggiativi, avrebbe detto la bella Vira Carbone Ai mirofosi di striscia notizia di Stoffelli Iscrivetevi, commentate, questo sarebbe quanto, questo video ovviamente non è per leggere le pratiche di Vira Carbone ma solo informare stop Nasce infatti solo per questo motivo non per altri modificatori Grazie